Salve a tutti ragazzi, vedo di vostro solo gaming in questo nuovo video di Game of Thrones Solti, siamo lasciati con Tyrion Lannister Che si è presente in Bush perché... Che busso... Porti di Tyrion orilliamo, nel caso ci sia qualcuno È stato accusato... Che mi sono dimenticato, d'altro oltre di abbassare le caratteristiche di sette pezzi di tutto il mio figlio Che stai pensando? Che hai bisogno di lasciare, ora Tom, sono in giro È stato accusato dalla morte di Joffrey Che se qualcuno ha visto la serie, Joffrey è stato invece assassinato da dito corto Quindi mi dai la mano? Oh, non sbuffare Dove sono gli amici potenti che volevano aiutarmi? Ho un'idea La terrazza La cosa? Che, che? Ah, quindi vuoi fare Assassin's Creed alla fine Questo è Game of Thrones però Allora cosa ci inventiamo? Lo fa davvero? Si butta lo stesso Vedi che Ne valsa la pena Essere gentili con lui Niente E se vuoi gli ordini di margine Eh, perché ho detto una grandissima cazzata Che Dio Che Dio sta succedendo? Uh Non me lo farei mai aspettato che qualcuno abbia fatto casino da quella porta Non c'entro niente col fatto che io sono lì proprio davanti Siamo nella merda Tom E poi ci prendi quella carsta Muoviamoci perché arriva con le guardie con Dove fare in fretta Perché ci stanno arrivando le guardie nel culo Ah Ma dai C'ha ragione Come va? Ti sei ficcata tu in questa situazione? Cioè Io ti ci ho ficcata Vabbè, però L'ho scritto io Eh, vabbè, però non serve cambiare Quindi può essere che qualcuno gli ha fregata Sigillo reale La cera Il documento quello là sopra Che magari faresti bene a leggere Per prenderti Wow Eh Ah, ecco che serve la chiave, forse Siamo fottuti Eh, non morire per favore Ci tengo a te più o meno Quella sotto, vada dietro, vada dietro Questa è fatta la cazzata Uh Ho lanciato le chiavi Ma guarda questo è un solo quello, prima devo farlo io, non lo vuoi Mi sa, ci beccano, ci beccano, ci beccano Ovviamente non notano la gonna che esce fuori Bravo, il carboneio che dà fuoco alle persone Spero di no, spero che abbia da fuoco a un mobile Wow Wow Come corri? Come? Un'altra tapestria di fuoco, sotto la porta Ho portato un minuto, magari due Benissimo Adesso, credo che hai capito dove possa essere Eh, io direi che la chiave nera Perfetto Ora, corriamo La porta c'è Non la prenderai mai Ciao, stronzi E adesso chi è che ci tocca? Dove torniamo? Ah, va bene Roderick Con i cavallini, con gli occhietti dolci Gwyn Whitehall Non è una trappola vero Perché sinceramente questo povero uomo L'ha avuto Proprio Oh, cazzo Guarda qua Non abbiamo tempo da perdere Guarda il cavallino combinato Ma tagliano pure male, poi Come rovinare una foresta? Dio, qual è Whitehall? Ci pensano loro Eeeh Va bene Ma sai come Vediamo cosa da dire Se non è una trappa Ci può dare qualche indizio per incastrare il padre Cercherò un modo per contrattare Sicuro Fidati di me Nelle case distrutte proprio Non so chi è peggio Guarda i tuoi o la Ramesses Snow Si ma rifiuto il pugnale Sono uno storpio Essendo uno storpio Non credo di poter fare qualcosa Neanche contro una Donna Non riesco a cavall.. Non riesco a camminare Guarda come topico per bene Facciamo il vecchio pozzo Voglio guardare da solo Guardate ci sta pure il carro dei Whitehall Guardiamo prima il carro il pozzo è più lontano madonna ora vedo il bastone tutto posto è trasportato mi è piaciuto cammo coccindale di un giusto andò ma ora sono le copie fake mettono in giro sto vediamo il carretto il carretto ho detto guardare quanto tempo ci vuole per vedere il carretto quindi la roba che fa schifo è tutta loro va bene quindi sappiamo la provenienza altro che articoli perfumatori e cose multimediali wow emmo dove devo andare si ha la macina banderas banderas dove sei ho bisogno di un po' di biscotti oh eh già adesso sei vecchio tararara 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 il pugnale oh io lo rifiuto del pugnale eh si no ha fatto qualche casino ma niente di più devo fermarla sono completamente d'accordo e quindi tu sei venuto a dirci le sue tattiche segrete oppure anche tu sei del fatto che dovremmo arrenderci è bello è bello rivederti però mi sta concedendo a cuore la faccia come hai sentito bene come fai a saperlo più che altro c'è abbiamo una spia dentro ma se tu lo avete iniziato io ho sentito la mia famiglia ma non mi piegherò facilmente ah grazie ce l'ha messo la palla e la palla proprio mi so zitto mi so zitto dobbiamo scappare via allora facciamo in fretta perché siamo poche persone non avremmo assolutamente neanche la minima chance di batterle a produrre dove sta mire perché mi sentito tutto questo purtroppo di questo come ora non possiamo voglio sapere chi è voglio sapere chi è non credo sia la mamma il mio primo consigliere non lo è perché vuole proteggere il bosco del nord dipende dalla griffa è uno stronzo il nostro aquilotto andiamo andiamo corri roderick corri rompere le belle le belle non le devi rompere donna vai in cucina andiamo l'altro Royland non credo che sia lui vorrei che mi hanno combinato quindi ci sei rimasto soltanto taglia ma taglia e la sorella scludiamola quindi non vorrei dire cazzate ma quello che mi viene in mente a me può essere che sia il gran maestro il gran maestro può sembrare che sia una talpa cioè da tutti i personaggi che ho visto adesso mi pare che sia lui noi ci si mette a pulire ho capito che la tua indole si fa sentire ma non ha senso tutto questo casino se tu pulisci il loro sporcano e mi hanno fatto incazzare io ho detto che facevo il bravo un uomo faccio è cattivo cioè però mi devo contenere meno sioni malvagie e meglio è ho delle notizie preoccupanti tu però mi hai fatto già grandi cazzate quindi non ti dirò nulla posso dirti che c'è una talpa magari mi aiuti vediamo come fa eh e non sarà sì no non glielo dico non glielo dico se ho la possibilità di dirlo lo direi al primo consigliere che era Duncan si chiama Duncan non mi ricordo mi sono a prendere il culo non gli faccio fare i loro giochetti no però non sono tre c'è un bestione se si corre alle violenze non gli posso fare nulla devo lasciar correre ah 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 stanno a fare la cosa di Ethan cosa state facendo Madonna Mi danno sui nervi Disgozzerò Dal primo all'ultimo E che cavolo vuoi fare Mi hai fatto perdere la gianna Avremo avuto la possibilità Con la gianna Mi cortello potrebbe lanciarmelo a uccidermi Quinti no Io ti ucciderò per prima Ma non è il momento ora Quando viene Asher con l'esercito Faccio quello che devo Non sai manca cosa dire Ti mostro lo contegno perché se no poi Griff viene e rompe coglioni quindi il misto fermo E il mio frate è stato sull'esercito Quindi spero che tutto sia valutato E' valutato Quando prendo questa piazza dal tuo cuore E vedo la vita Minaccia Quindi se l'avessi picchiato avrebbe fatto la stessa scena Anche tu morirai Lo so Una volta detto Una cosa saggia La prossima mi metterai ancora più in mezzo alla merda Ne sono sicuro La corongina non ti sta affatto bene sappilo Oh siamo tornati alla barriera Con il nostro caro Jun Snoo Perfetto Dimmi Forse sono sempre stato onesto Ah si va bene Ci sto ci sto E' un'ottima possibilità per andare Fuori A Brita sarebbe quella che ho deciso ai nostri genitori Devo far finire di farlo Non perdonarlo ma starci Non ci sono nulla Non ci sono nulla Mi aiuterai Buono 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 Se mi aiuta ho la sua Ho la sua Il suo appoggio Sono più contento Nel tuo culo Scusami Dobbiamo lavorare insieme Perché? Che ho fatto io? Mi ha rubato la mappa Adesso ti devo dire pure a loro Perché se no mi gioco la loro fedeltà Siamo gentili come sempre Perché qua l'aiuto serve Beh non potevo mica dirlo avanti a tutti E' infatti ragione Ah eh Ecco che arriva lui subito a distruggere la magia Ah vuoi dire come esercito Perfetto Io sono curioso di vedere cosa è questo Nord Lov Questo bosco del nord Eh da qualche parte Che carino Spero che non muori E' tanto c'è risofenza Chissimo che sembra mio compagno Che c'è sul mio compagno Ma mamma S Oh white walkers Oh how to sneak past a giant Che sei? Gran maestro che sei? Che c'è? No no Tu hai un segreto No mi scelta Stai nascondendo qualcosa No Stai nascondendo qualcosa non è vero bugiardo la tua faccia dice tutto occhiai ai giganti smetti di mentire ecco alla fine non sembra minacciato prima mi sembrava più minaccioso perciò vuoi temerlo amico è un brutto buono ti sei salvato il culo facendo finta di essere qualcun altro in questo caso ti ha salvato il culo stai scherzando si 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 non si vado a riparare il buco per farla cacca sinceramente non mi è molto sollevato dicendomi che lui non mi vorrebbe bollire non mi è piaciuto però mi può tornare utile un brutto essendo che lui conosce l'altro lato della barriera potrebbe aiutarmi però questo si sente perchè dovresti aiutarmi? quindi anche tu sei interessato devo stare attento pure a lui no non mi serve non ti ti dire mai se no ti avrei trajito quando avrebbero hai prerubato il pugnale alla fine alla fine si chiamava così un salvataggio uno piccolino grazie perchè per me può finire qua ragazzi vi ringrazio tantissimo per la visione nel caso in cui se vi è piaciuto il video di lasciare un mi piace iscrivervi al canale qui dal vostro solo gamer è tutto alla prossima e speriamo che sia migliore di questo sinceramente grazie a tutti